Questa barca ha una storia che comincia nel 1968, è la numero 7 del cantiere Swan. Ha vinto la Midasireis l'anno del Varo e ha un passato realmente bello e romantico. Io questa barca l'ho trovata sul porto di San Vincenzo, su una banchina abbandonata e me ne sono innamorato per la bella linea che è sempre stata praticamente poi il sogno della mia vita questa barca. Quando ero giovane non me la potevo permettere, avevo un Briga 9,50 però il mio sogno è sempre stata questa e ho deciso di restaurarla. Partecipiamo a questa regata che è una bella festa, ci ritroviamo con tanti amici, ormai un'ottima organizzazione. Tutti gli anni c'è qualche cosa di nuovo e di bello e poi quello che c'è di unico è poter gareggiare in questo splendido scenario della Costa Smeralda. Il nostro corso è sempre divertente di rinforzare qui. Mi devo rinforzare in questo momento perché ho rinforzato qui dal primo edizione in le 80's. Puoi immaginare, un po' tempo fa. Io credo che la Spalm & Steven class sono le più belle bote che si è costruito per l'autor. E sono ancora un bel bote a fare, un po' di rinforzare con le bote di oggi, ma molto divertente. Grazie. Grazie. Grazie.